sostenuta da colonne neoclassiche, il moderno torrione destinato agli uffici e alle sale di prova per gli artisti, costruito in occasione del recente restauro, su progetti dell'architetto Aldo Rossi, che ha respuito il teatro alla città dopo i gravi danneggiamenti da essi subiti in tempo di guerra, mentre sullo slargo, la specie del teatro, si può notare una bella statua questre raffigurante Giuseppe Garibaldi. Anche i palazzi che affiancano il teatro, come quello del Banco di Roma e quello che ospita l'Accademia Ligustica di Belle Arti e il suo ricco museo, recano una chiara impronta neoclassica donatale dal barabino. L'elemento centrale della piazza è certamente la grande fontana, attorno alla quale è sempre viva l'animazione, che in inverno spesso, spinta dal vento di tramontana, inzuppa di poco desiderati schizzi malcapitati passanti. Da qui possiamo mirare l'introspetto laterale dipinto nel calazzo locale, da una monumentalità spettata, già con il passaggio del Dove e del governo della Repubblica di Genova, che ora sempre dimostra una interstituzione di rilievo internazionale. Di pronto adesso, al di là della fontana, è una succedentrice per spettare la borsa, di età molto più recente, ci mostra già una volta gli elementi portici che caratterizzano gran parte delle vie di Ocente e Piazza dei Ferrari e che possiamo seguire anche attraverso le vie d'arte, dove ci accendiamo con una mappa per scuola. Sì. 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 Grazie.